FEDTV, TV di comunità! Ego e solidale hanno dei significati pesanti in questi termini. Ego ovviamente rimanda ad un'idea di equità, di uguaglianza e di giustizia solitare e che non si gira dall'altra parte nei confronti di chi è magari in difficoltà e può avere bisogno di aiuto da parte di qualcuno che ha più possibilità. Il commercio eco-solitale mi piace perché si basa sull'etica del commercio quindi se non sbaglio si basa anche su quello che non è lo sfruttamento di persone sfruttamento del terreno stesso, della terra stessa utilizzo di metodiche più vicine a quello che è l'ambiente e quindi penso che comunque sia un passo avanti verso il consumo critico, verso una consapevolezza maggiore verso l'ambiente. Sicuramente sostengo il mercato eco-solitale come intento, come mission e anche come a livello economico, insomma se spendi un po' di più comunque è giusto quello che stanno facendo. Dovrebbe essere in realtà una situazione normale purtroppo è una cosa purtroppo di nicchia perché comunque è un tipo di mercato che si occupa di gestire le risorse umane anche in maniera giusta come dovrebbe essere spero che cresca un pochettino.